ecco la canellata di Roby c'è l'altra canna lì però adesso ma non è grossa almeno non sembra ecco che Roby lo cattura subito la canna lì che aspetta aspetta dai dopo la vediamo vado dentro magari a prendere quando viene qua inizi a girare aspetta aspetta Roby non dico come uno straccio dopo averne perso uno si rifa subito ma lo stai trascinando aspetta che adesso vado giù a prendertelo ecco niente l'ha preso subito si è rifatto al volo sta cattolino è il duro vado giù io? come vuoi vieni qua allora che Roby dopo averlo maltrattato in tiraggio si appresta andare a salparlo il silurotto ecco qua uno si va bene ma due no eh no due per noi sono troppi buona fermo e facciamo le foto se la faccio allora fermo e vado a prendere la pinza bene la prima cattura della giornata fermo con il silurotto ok buona buona aspetta 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 ecco che sta rilasciando il silurotto se l'ha indicato aspetta aspetta eccolo un altro Roby com'è la situazione? lo so non sembra grosso però è più bello di quello là dopo 5 minuti è un po' più bello oh 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 ma piano smetto il video? ma come faccio a smettere il video? ma che sembra? non c'è l'idea lì mi ti tiriamo su due le mie se andava più piccolo ecco che Roby non lo vuoi sforzare voglio tirarli fuori da più 5 minuti oggi li prese tutti lui cazzo si non è che è grosso li sta maltrattando cazzo questo è spaventa vabbè questo qui se ci metti giù la testa no qua no qua è un disastro no ce l'hai in tiro e questo siamo sui 9-10 kg comodo no no di più di più? siamo sui 15 15 e la miseria vado io? vado io? vai vai tu ma che devi tenere questo qua vedete già? aspetta mettemelo in mezzo le gambe così tieni eh tieni di più mettemelo in mezzo le gambe ragazzi questo si sente cazzo basta adesso io mi fermo perché se no cazzo no no qui fermi sul più bello ti fermi questo è bello questo è bello ma metti giù te la cazzo ma no ma cosa stai dicendo? ma scusa ma stiamo prendendo i siluri o? prema già te è bello questo oida stai calmo stai calmo stai calmo che non ti facciamo niente di male rovi tu devi mettere in bocca ma che non sono arborelle 14 kg e mezzo oh bello cavolo poco fai un bacino poco è magro però per la bocca è magro porca miseria che bello mi piacciono i tuoi pesci cacchia boh sospendi cosa sospendo? ecco che lo rilasciamo andare l'altro pesciolino è andato dentro al solo andato via vai alla prossima ecco stavolta è la volta di Giuseppe è già il quarto siluro in mezz'ora oggi è uno spettacolo guarda che era lì che mi aspettava no ma non è grosso anche l'altra volta è detto così poi dopo era 13 ma viene subito bisogna vedere se viene subito o è lento perché vuole stare non è proprio piccolo piccolo allora nella canna canta nell'altro video si sente un attimino che sembra come che suoni una chitarra fa ten e questa qui senta? si ma che forte che canna sembra piccolo poi dopo alla fine è più grossa del mio è bello vedrai che tutti i filuristi quando vedono il video vorranno capire che posto è ma noi mettiamo su fiumi strani che non sono quelli veri allora lo vediamo ha preso dentro in qualcosa per un attimo no è bello però vedi che vuole cambiare vuole mettere il carasso invece la salettina ha reso mi sa che è proprio vero che cambiare il pesce si ricorda qua non si ricordavano niente non abbiamo mai usato le salette che ormai sono scomparse ma perché fa così fatica a versi allora è bello fa farmi male il braccio ma come è lento stare attento a quel punto lì ti ricordi che c'è sotto qualcosa deve essere qualche rametto altra volta c'hai mica lasciato lì anche adesso lo vediamo è bello è bello sui 10 ma come è giallo c'è questo colore qua non sono neri sono gialli questo qui è proprio giallo tieni te che li vado a prendere il guante manca quello da 30 kg ma arriverà questo è il terzo ci stiamo abituando troppo bene ecco che Roby mi recupera insomma ma com'è giallo questo tipo sotto pancia non puoi dire che sono sempre gli stessi cambiano il colore è giallo sembra un futuro a step ci vuole da un tero eh sì dobbiamo organizzarci anche così aspetta che lo prendo vuoi prenderlo che ti faccio un po' di riprese tiro via il guanto intanto riprendo l'arbra è in riprese come colorato questo eccolo lì giuseppe col suo bel filoro stupendo ok un sorriso bene ecco slamato pesato 10 kg giusto questo pesciolino che in mezz'ora è già il terzo siluro la vai si vede ancora filo molle come un scagnato ecco che roberto indietro che tira sul mio mi stava tirando dentro aspetta che sposto vai con la ripresa riprendiamo la scena ho dovuto riprendere la canna ma roby si stava lamentando l'ha attaccato subito volevo riprenderla a mangiarti gli hai dato subito ed ecco che sta arrivando il quarto bello questo bello questo dove vai ci ha passato la pianta ecco che ritorna bomba una bella canna ma è corta che tronza mi appoggio la fianca perché mi ruva dentro non vuol mollare e la che bello ma è il quarto o quinto ho perso il conto ho perso il conto fai tu tieni ancora li allavoro io li attacco lì con quell'amo li potremmo attaccarli li dai subito bello caccio oh che bel bocconi roby va a prendere il guanto e lui cerca di partire ancora che si gira su se stesso preso preso e vai col quattro siluro aspetta che ti metto il favore un'ora e mezza quattro siluri cioè una roba incredibile mi fermo o? fermo fermo ecco che roby si appresta a rilasciare il quarto siluro in un'ora e mezza in un'ora e mezza oggi veramente ha dell'incredibile oggi ci siamo oggi ha dell'incredibile veramente anche questo molto giallo una pescata così dovremmo segnarla sugli annali neanche quando andavi su